Giustizia ed impresa, un binomio anomalo sotto certi aspetti, ma spesso dai tempi della giustizia possono dipendere dai sorti di un'impresa. Proprio per questo la Camera di Commercio di Cosenza si è adoperato per firmare un protocollo d'intesa con il Tribunale di Castrovillari con l'obiettivo di favorire strumenti di giustizia alternativa come mediazione, conciliazione ed arbitrato che possano accelerare i tempi giudiziari. Promuovere queste nuove forme delle cosiddette ADR, ovvero Alternative Dispute Resolutions, è uno dei punti salienti di un accordo che prevede anche l'attivazione presso il Tribunale di Castrovillari di uno sportello camerale rivolto proprio a conciliazione, mediazione e arbitrato. Questa sarà una rivoluzione ma anche nei confronti dei consumatori e dei cittadini, quindi il nuovo sistema camerale è quello di aprire verso l'istituzione, verso il mondo dell'impresa certamente ma anche dei cittadini e poi questo accordo che è soltanto dal Tribunale di Bologna con la Camera di Commercio di Colonna è quello di mettere insieme i dirigenti della Camera di Commercio con i magistrati che ci mettono a disposizione e vedere dove si può fare quella mediazione in modo così veloce. Questo significa, lo ripeto, essere in modo semplice, in modo veloce e in un modo anche economico, quello di arrivare a un punto. È un problema culturale nostro, sperando che in una sede del Tribunale riusciamo e con la promozione abbastanza forte nei confronti sia dei cittadini e delle imprese rompere questo meccanismo e fare più mediazione.